Ciao a tutti, oggi andremo a vedere insieme questa figure di The Mask prodotta dalla Asmus Toys. Questa è la versione 2.0 che poi andremo a comparare con la versione numero 1, quindi la prima uscita diversi anni fa. Partiamo innanzitutto dalla scatola. Abbiamo nella parte frontale l'immagine della locandina del film, il logo Asmus Toys. Sul lato prosegue l'immagine della locandina, sul retro abbiamo l'immagine della nostra figure, meglio dei prototipi, anche lì in fondo il logo Asmus. Qui sul lato abbiamo di nuovo la scritta Mask e nient'altro. Quindi andiamo a togliere la scatola e guardiamo innanzitutto gli accessori. Qui vediamo, partiamo dalle mani. Abbiamo due mani che puntano il dito, una destra e una sinistra. Abbiamo poi due mani, una destra e una sinistra, con questo tipo di presa che servirebbe probabilmente per tenere in mano il sacco di soldi che però purtroppo non è incluso. Due mani di questa tipologia, una destra e una sinistra, probabilmente servono per tenere in mano il martello che non è incluso. E due mani, una destra e una sinistra, di questa tipologia, che servono sia per mantenere in mano il cappello che magari per tirare la cravatta come accadeva in una scena del film. Altri accessori abbiamo questa maschera di Loki, questa seconda testa, sicuramente di qualità inferiore rispetto alla prima che abbiamo già sulla figure, ma di profilo non è comunque male. Poi abbiamo questa testa di Milo classica, questo Milo trasformato perché ha inserito la maschera. Vediamo che vi faccio vedere, ho fatto la testa qui, se mi va. Allora, questa qui è la testa di Milo che indossa la maschera. E questo qui è il corpo, le teste sono collegate con un magnete, solo che rispetto alla prima versione è molto più piccolo e quindi fa molta più fatica a reggerle. Non tanto quella classica, ma più che altro questa testa con Milo trasformato. Poi abbiamo il classico cappello, questa volta realizzato in stoffa, fortunatamente a differenza della prima versione. Adesso facciamo un confronto degli accessori e poi passiamo alla figure. Andiamo a togliere momentaneamente il nostro maschera. A confronto tra cappelli abbiamo questo in stoffa e quest'altro che invece era quello della prima versione. Quest'altro era fatto in una plastica durissima, infatti guardate ha delle crepe perché nel cadere purtroppo mi si è rotto ed è molto meglio secondo me questo. Anche perché questo qua calzava molto male a De Maschere. Poi, le maschere di Loki. Questa è quella nuova verde, questa è quella vecchia marrone, praticamente lo scalpto è lo stesso, cambia solamente la colorazione. Milo, allora, vediamo prima di tutto le teste. Quella classica abbiamo questa nuova e quella vecchia, secondo me è decisamente meglio la vecchia versione. E con la maschera invece abbiamo questo Milo, versione nuova, e quest'altro che è la vecchia versione. Secondo me in questo caso vince la nuova e il corpo anche è diverso. Infatti abbiamo questo che è Milo sdraiato per la nuova e Milo in piedi, cioè meglio seduto nella prima versione. Adesso ve li faccio vedere. Con indosso le teste, uno vicino all'altro, ecco qui, ecco. Rende decisamente meglio quello vecchio con questa testa, invece come ho detto per la testa nuova è migliore quella con la maschera. Adesso andiamo a vedere una cosa però in più che c'era nella vecchia versione, anzi due cose. Abbiamo i sacchi di soldi, che comunque è semplice riprodurli anche per questo nuovo, però comunque non sono già inclusi, invece c'erano nella vecchia. E questo martello che è pesantissimo, quindi era difficilissimo farglielo tenere in mano, però comunque era incluso e invece nella nuova versione non ce l'abbiamo. Adesso andiamo a vedere la nuova figura di maschera e poi andremo a paragonarla con la vecchia. Ecco, una cosa in più che invece ha quello nuovo è questo stand che invece nell'altra non c'era. Quindi togliamo lo stand e andiamo a vedere il nostro maschera. Allora, questo è il volto visto da vicino, è davvero fatto benissimo, il primo volto, a differenza della vecchia versione. Qui abbiamo l'abito, la cravatta perfetta. Questo fazzolettino in realtà è quello della prima versione, perché in questo nuovo non aveva i puntini neri, quindi sono andato a sostituirlo. Poi comunque ve lo faccio vedere, le scarpe perfette, l'interno dell'abito a macchia, come nel film, è davvero fatto benissimo. Allora, guardiamo meglio il volto. Questo è davvero identico al film. Quindi questo qui è il nostro nuovo di maschio. Allora, cambiare il volto è abbastanza semplice, adesso ve lo faccio vedere velocemente, basta staccarlo dal collo, c'è questo perno in cui andare a inserire l'altro volto. Ed è subito fatto, ecco qui. Abbastanza semplice, rimettiamo l'altro. Ecco qua, abbiamo finalmente il nostro mask, che non sta in piedi più, non sta più in piedi. Ecco fatto, perfetto. Quindi, andiamo a prendere invece la vecchia versione, eccola qui. Allora, qualità del volto, spostiamo l'altro perché mi va a togliere il fuoco. Qualità del volto, nettamente inferiore nella prima versione, rispetto a questa nuova. Cravatta non completamente identica al film. Fazzolettino, che era corretto. Questo qui invece è quello della nuova versione, che sono andato a mettere al posto di questa. Abito uguale, praticamente come colorazione, scarpe migliori nella nuova versione. Comunque, ecco, c'è da dire una cosa. Come materiali, toccando la stoffa, mi sembra migliore quella della vecchia versione rispetto alla nuova. Probabilmente, perché è un materiale un po' più spesso rispetto alla vecchia. Comunque, non saprei poi dirvi effettivamente la qualità. Però, al tatto, sembra migliore questa vecchia versione. Allora, adesso andiamo a vedere le articolazioni del nostro masche. La testa può ruotare grazie al movimento del collo, può guardare poi verso l'alto e verso il basso. Le spalle si possono alzare, piegamento del gomito a 90 gradi. Le mani possono ruotare, muoversi in alto e in basso. È difficile sostituire le mani con quelle intercambiabili, perché i fori delle mani sono abbastanza piccoli. Abbiamo qui apertura della gamba, piegamento in avanti, piegamento indietro quasi nullo, piegamento del ginocchio, movimento della scarpa completo, che è in alto e in basso. Quindi, come figuro, è fatta davvero bene anche le articolazioni. Sono molto buone. Pec di questa nuova versione. Allora, posso dire, innanzitutto, il fazzolettino, che era della colorazione sbagliata. Poi, per il resto, non mi piace molto il metodo che hanno scelto per la sostituzione delle teste, ma non perché non funzioni bene, anzi funziona benissimo, ma perché in questo caso la seconda testa non è semplice metterla su un body diverso, in quanto non ci sono body con questo foro. E la mancanza di accessori sicuramente è una pecca, perché comunque i sacchetti di soldi e il martello uccidiva solamente perché avevo la vecchia versione, altrimenti non li avrei avuti. Quindi, in conclusione, come figuro è molto buono. Il prezzo, almeno all'uscita, era buono, stava sui 160€ e adesso so che è lievitato, anche se stanno già facendo una nuova versione deluxe con anche stalle Ipkis. Quindi, nel caso, potrete ordinarlo direttamente dal sito Asmus. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per vedere altre recensioni e se avete qualche doll o figlio specifico che vi interessa, scrivetemelo nei commenti e vedrò se riesco a recuperarvela. Grazie a tutto per il momento e ciao a tutti!